Due appuntamenti che mettono al centro la donna, le patologie mammarie e la prevenzione organizzati per il 22 e il 25 ottobre nei locali della SMAC. Si tratta del primo evento promosso dalla Senologia Multidisciplinaria Azzendale Coordinata, il secondo dalla Chirurgia Plastica, entrambe dirette dal professor Corrado Rubino. Le giornate ricadono all'interno del mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella. La prima giornata, quella del 22 ottobre, è inserita tra gli eventi dell'Ottobre Rosa e si svolgerà dalle 9 alle 17 nei locali al piano terra della seconda stecca bianca a fronte Scala E in Viale San Pietro 43. Per l'occasione sarà predisposto un piano visite gratuite su prenotazione in accordo con i chirurghi senologi. L'evento voluto dalla SMAC può essere considerato un appuntamento speciale perché la struttura in realtà non effettua screening mammografici. La SMAC, infatti, nata il 5 giugno 2017, è un percorso assistenziale di senologia aziendale al quale possono accedere le pazienti sintomatiche che fanno la richiesta tramite il numero verde, lo sportello o via mail. Quindi le pazienti sintomatiche provenienti dallo screening senologico e dalla senologia clinica territoriale munite di impegnativa. Il 25 ottobre, invece, in occasione del Bra Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, la chirurgia plastica dedicherà un pomeriggio al tema. Nei locali della SMAC, dalle 15 alle 15.30, il direttore della struttura, il professor Corrado Rubino, incontrerà le pazienti per parlare di ricostruzioni mammarie. Sarà possibile prenotarsi chiamando il numero 079 22 84 34 a partire da mercoledì 23 ottobre tra le 8.30 e le 13.00.